Hakuna Matata ragazzi e ragazze, ben ritrovati dal vostro Cicciokev89 direttamente da Tokyo direttamente da Tokyo, oggi è il 24 ed è uscita questa espansione qua e forse sono il primo italiano a metterci mano calcolate che costa 30 euro qui in Giappone ma questo è un box che secondo me tranquillamente arriverà sui 70, 80, 90 euro dipende dal pool quanto sarà succoso e quanto costerà in un precedente video vi ho fatto vedere il pool però al limite dopo o ci rientro amore e gli faccio una foto ma calcolate che c'è un topolino con la carta tutta nera che è fantastico e andiamo? Ce li apriamo? Io me li aprirei calcolate che intanto in questo momento me ne apro uno e datemi tempo, ok, bene, 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 bene sentiamo, di solito le prime stampe, sì perché loro danno sempre una promo, ok di solito le prime stampe a mio avviso sono quelle che ti fanno pullare un po' di più le bustine sono come il box ah, sono tipo fatte di pongo ma non ci credo, abbiamo pullato, è quello, abbiamo pullato Ate, vedi? intanto ce la mettiamo qua, non credo che Ate sia ah, abbiamo pullato anche, c'è anche coso ah, sì sì, è questo qua questa è una CHR, queste sono due CHR ora i pull, ripeto, non so esattamente quali sono però per il momento ancora niente di entusiasmante purtroppo ah, allora, questa sicuramente è un buon pull questo qua è un buon pull te lo dico è una super rara, invece queste qui sono rare questa è una super rara, quindi Mulan ce la siamo intascata che non è male, ripeto, non so assolutamente il costo ah, ma dimmi te questa è rara, quindi vale ancora meno di quell'altra va bene ma ce stanno un botto allora e perché ti non so tanti, eh? eh, non so tanti, non so tanti Bimax ah, vedi, hanno messo un botto di roba c'è Maleficent qua ok, la regina de... da neve là da biancaneve direttamente dal Giappone, regà, c'ha effettivamente tutto un altro gusto, eh? sì, lo facciamo esatto e dai, fammi pullare qualcosa di maestosamente, maestoso il genio ok ma quindi prima abbiamo avuto un doppio pull, tra l'altro vamos avanti, vamos avanti quindi per il momento niente ah, carino, carino anche perché, sapete che c'è? devo evitare di farmi prendere dalla mania di spacchettare a profusione perché sennò c'è il rischio che incomincio a spendere un po' troppi soldi, dico la verità, eh? però black dopo lì non lo potrei pure prendere, cioè me l'accollo se lo trovo, eh? cioè se... a meritammelo non lo so, però se lo trovo me l'accollo ben volentieri ok, super rara che è un'altra allora, dobbiamo vedere se tante volte dobbiamo vedere se tante volte i pull ma dimmi te sono come quelli giapponesi, cioè come One Piece quattro super rare e una fuori serie dobbiamo capire se è questo no dove è uscito Polino? ok ma dimmi te, guarda che roba B-Max rara no, può essere che la super rara però non so se è garantita hai capito? il pull è quello eccezionale, incredibile e pazzesco Hercules no che bellissimo, paverino così sembra, sai molto stile che cosa? sembra molto stile Final Fantasy non Final Fantasy dai, capito? Kingdom Hearts sembra in stile Kingdom Hearts ok, questa è la super rara un po' bruttino se effettivamente e abbiamo una rara per il momento non credo che il pull sia incredibile poi non le conosco le carte quindi può essere tutto speriamo che ci sia sta fuori serie ma boh, mi mancano pochissimi pacchetti oh, che carina carina Topolina raga, l'ultimo pacchetto mamma, non lo so ma non è detto che ci sia garantita eh Gaston Ursula eccola no non lo so rara rara ok quindi no, non è quella che pensavo di nuovo Gaston quanti cazzo di Gaston? quanti Re Leone e niente raga no, non c'è non c'è non c'è non c'è questo amore rara 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 eh sì super rara rara super rara 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 super rara super rara e rara e raga o mi ha pure un altro ma sì dai sti cazzi fatemi controllare se qui ho buttato qualche pull gigantesco ma non credo ok ah raga tanto non mi voglio portare a casa già ve l'ho detto bad light here andiamo a quindi l'altro box non niente ora speriamo che di nuovo lui quindi già allora già dal secondo box uh carina Ariel sì l'hanno fatta comunque ma l'ho detto sembra proprio Kingdom Hearts sembra un botto quello dicevo non me li voglio portare i box raga mi devo dare una limitata da me li apro mi faccio lo spacchettamento col voi mazza carina Biancaneve Biancaneve guerriera Tocolina già ce l'abbiamo vediamo eh carino pippo altro pacchettino questa già ce l'abbiamo Bimax già ce l'abbiamo che in Giappone Bimax dovrebbe essere tipo la cosa più bella del pianeta Terra no super rara super rara carrucetta ci mancava è cosa dei tuoi stori mettiamo qua e di nuovo il genio dai forza carina super rara diciamo che le super rare le pulli però super rara ma quindi dentro un pacchetto puoi trovare rara e super rara puoi trovare dai forza su forza su niente ragazzi siamo arrivati in fondo mancano gli ultimi tre pacchetti eh e meno male che i primi box sepullava pensa se sepullava gli ultimi due omo dopo ritorniamo un attimo là vi faccio vedere vi faccio la clip per farvi vedere oh questa è carina questa è carina Jack Skeleton molto bella e ultima e ultimo pacchettino ci mancava calcolando che lei sta pure sul box quindi mi immagino che potrebbe essere effettivamente un po' più cattiva e ragazzi niente oh e non si dica che non abbiamo spacchettato eh perché alcune sono rosse però ecco vedi non riesco a capire le più importanti vedi le super rare si le capisci ma secondo me oltre la super rara lo sai che non c'è perché nel Disney Store che sta lì andiamo a vedere esatto mi sa che ci stanno solamente queste qua rare super rare ok e poi c'è c'è topolino se sarà così probabilmente sì spero che il video vi sia piaciuto lo voglio bene ciao ciao mi raccomando un like e un commentino ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.